segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te un grande applauso d'innamogia innamogia dal mali allora innamogia ha cantato l'in on me questo pezzo era l'in on me di una cover di bill waters e prima hai cantato un altro pezzo che si intitulava water perché queste due canzoni water è una canzone che ho scritto perché vengo da una regione del mondo e nello specifico nella parte sud del deserto del sahara dove abbiamo molte difficoltà ad avere accesso all'acqua acqua pulita acqua potabile e dappertutto nel mondo ogni essere umano ha bisogno dell'acqua e oggi nel 2023 mi dispiace scusate mi sono davvero molto emozionata vediamo una foto di inna eccola qua questa sei tu e lei chi è la mia figlia ecco lei è sua figlia allora abbiamo parlato prima di cantanti artisti influencer di attivisti inna è ambasciatrice per la convenzione delle nazioni unite per combattere la desertificazione partecipa attivamente alle conferenze delle nazioni unite sul cambiamento climatico promuove azioni concrete sei un attivista sei stata un attivista hai fatto battaglie contro la mutilazione genitale femminile per i diritti delle donne adesso in particolare sei focalizzata se ho capito bene sull'ambiente sulle problematiche ambientali puoi dirci qualcosa di queste attività sì mi sono concentrata sulle donne fin da quando avevo 19 anni perché quando ero una bambina quando avevo quattro anni ho dovuto subire anch'io la mutilazione dei miei genitali e questo è successo nella casa dei miei genitori per opera di un membro della mia famiglia e quindi all'età di 19 anni ho deciso di diventare un attivista per i diritti delle donne e poi nel corso del tempo ho capito che anche l'ambiente è un problema immenso per le donne per la parità di genere perché le donne le le ragazze sono quelle che soffrono di più sono quelle che sono più esposte più vulnerabili e quindi il cambiamento climatico è diventato qualcosa contro il quale dovevo lottare diciamo l'ultima stai lavorando a un prossimo album perché sei anche soprattutto diciamo una cantante una musicista e hai prodotto un documentario di great king wall e stai al lavoro su una hai una start up giusto per bambini sì esatto ho una start up che è una tech start up e ci occupiamo di arte e lottiamo per l'idea di sostenere quelle organizzazioni che sostengono la giustizia climatica e la parità di genere e chiaramente continuo a fare musica anche film che si occupano di ambiente di donne dei loro diritti e mi piace usare la mia voce la mia piattaforma il mio palco per cose che per me sono importanti grazie mille complimenti innamorgia grazie mille Grazie.